Il tortello ripieno di patate, guanciale e parmigiano, tradizione unita all'innovazione, ha conquistato i palati della giuria del concorso culinario Primi di Toscana, arrivato per questa nuova tappa all'Istituto Alberghiero Leopoldo II di Lorena di Grosseto. Una sfida riservata agli studenti e alle studentesse degli istituti alberghieri della Toscana, promossa dalla regione dove giovani cuochi si sono cimentati nella preparazione di primi piatti dal sapore tutto toscano. I ragazzi partecipano volentieri a queste sfide e a questi contest e via via emergono. È un modo per migliorare la loro preparazione, per mettersi alla prova, per avere un obiettivo e in genere i ragazzi quando sono messi in situazione riescono a dare di più e nello stesso tempo anche ad apprendere in maniera più adeguata, con maggiore motivazione. La giuria ha scelto come miglior primo piatto il tortello di Mattia Vitali, che rappresenterà all'Istituto Leopoldo II di Lorena la prova finale che si terrà venerdì 11 maggio all'Istituto Alberghiero Saffi di Firenze. Abbiamo scelto il tortello come pasta con un ripieno di patate, guanciale parmigiano, con una decorazione di melanzane tagliate a dadolini e a strisce fritte e una clorofilla di prezzemolo. E il tutto coperto con una fonduta di pecorino. Nei prossimi giorni si cimenteranno gli studenti e le studentesse degli altri istituti alberghieri che ancora non si sono messi ai fornelli per il concorso primi di Toscana. Grazie. Grazie. Grazie.